Salve amici del Centro Meteo Italiano, forte maltempo tra weekend e inizio della prossima settimana, poi possibilità di una pausa con tempo più asciutto. Due impulsi perturbati in arrivo dall'Atlantico verso il Mediterraneo tra oggi e la giornata di domenica, maltempo che attraverserà l'Italia dal nord a sud con fenomeni comunque più intensi sui settori centro-settentrinali della penisola. Neve anche abbondante sulle Alpi, generalmente oltre i 1000 metri, ma localmente con fiocchi fin verso i 700 metri. Quota neve più elevata lungo l'Appennino. All'inizio della prossima settimana condizioni meteo ancora instabili con una circolazione depressionaria centrata sul Mediterraneo e aria più fredda in arrivo. Possibile espansione da ovest di un promontore anticiclonico a seguire con tempo più asciutto. Trattandosi di una tendenza seguite però come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.